E' il messo a mano! Oh 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 Yeh 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 Oh 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 Come di nostro amazzo d'abitudine salutiamo tutti i clienti di Eskamo Shop In questo video vi presentiamo una custodia Blackberry ecco la qui, una fondina blisterata e è una custodia, ecco, è una custodia protettiva per il vostro Blackberry Allora, andiamo ad aprire la custodia per andare a vedere in pratica che cosa ci viene dato all'interno della custodia, all'interno del blister Allora, vediamo che abbiamo questa eccola qui, questa custodia, togliamo la parte in polestirolo all'interno e vediamo che la custodia si presenta in questo modo ecco, è una custodia in similpelle con le rifiniture cucite, praticamente molto curate e sopra qui abbiamo il loghetto piccolino della Blackberry la custodia è compatibile con i modelli Blackberry 8009 8520 e il Blackberry 97 9700 9700 la custodia all'interno si presenta con del materiale effettivamente rigido è un tessuto è un tessuto che è effettivamente difficile da pensare, magari si possa graffiare il cellulare all'interno perché è molto molto delicato vi dicevamo che, ecco, la vedete in tutte le sue misure il logo della Blackberry è sia davanti che di dietro le cuciture, ecco, molto curate come potete vedere, bianche che danno ecco il contrasto sul colore della pelle per come è stata fatta la custodia ecco, è una semplicissima custodia molto molto carina da guardare, ecco, dove potete mettere all'interno il vostro Blackberry e avere la copertura assoluta del Blackberry magari, ecco, senza avere paura di andare a andare a cambiare le misure del vostro cellulare magari, ecco, quando si acquista la custodia si, ma magari poi il cellulare diventa più spesso il cellulare magari pesa di più in questo caso, ecco, la custodia è leggerissima la custodia, ecco, la vedete spessa, magari ecco, un millimetro anzi, mezzo millimetro da una parte mezzo millimetro dall'altro effettivamente è una protezione a tutti gli effetti per il vostro cellulare ed è anche molto professionale dal momento in cui è in pelle bene, io con questo ho concluso il video ringrazio tutti per avermi dato attenzione e vi do appuntamento alla prossima